No, abbiamo un momento strano, tu lo sai cosa c'è, aspetta. Io so che questo momento a te piace particolarmente Allora, eh, eh, dillo tu che io mi vergogno quasi, perché sembra che siamo amanti, no. No, perché lui in realtà non è, cioè, è un comico, ma non è un comico. No, beh, non fa ridere. No, cioè... Non sa recitare, dai. No, è piccolino. Sì. Con una, con una tuta nera. Non parla, ma non è neanche un mimo. Non, non si può, non c'è una descrizione per questo... Cioè, devo, sembra che... Per questa personaggio. Devo allottare con gli autori, la gente, molti dicono, abbiamo già dato, lui ha già dato, no, dico io, deve ancora dare. Deve stare qua con noi. Beh, guardiamolo insieme. No, è piccolino, ha la tuta nera, perché fai così? No, quelli del giardino, che non è biancaneve, come si chiama? E i nani. Non è un nano, non è un nano. Lui è Simone Barbato. La serietà, la serietà, l'inutilità, peraltro, perché non sa fare niente. Vabbè, lui c'ha i suoi... È il suo modo di... Di profilo è imbarazzante, io ve lo dico, spero che non si veda a casa quello che vedo io. Perché? Che cosa c'è? Non guardare, no, 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 sei una signora. Non posso guardare, va bene. Avete presente la russa da giovane? Ecco, perché ogni tanto tira fuori dei foglietti. Però a me piace l'installazione, perché poi fa delle cose che fan cacà. Invece è bello stare qui a guardarlo. Pensa che tutte le reti si accapigliano. Capigliano? Non so che volevi dire, accapigliano. Accapigliano. E poi dirlo tu, accapigliano. Quelli che hanno i capelli, esatto. E noi no. Per fare l'audience, cosa facciamo, come chiamo. E noi invece... Noi stiamo qua, guarda, fate un primo piano di Simone Barbato. Noi... Tanto su Rete4 c'è una cosa interessantissima, io ve lo dico se volete... E lui puoi dirgli quello che vuoi, non reagisce. Digli qualcosa di bello, di brutto. Io posso anche... No, non toccare no. No, ma lui non si muove, io lo so, lo conosco. Non neanche... Hai schifo. Guarda, guarda gli occhi, non parpadea. Come si dice in italiano? Battere gli occhi. Battere gli occhi. Non batte gli occhi. Hai detto battere. Che succede se batto? Ma diciamo troppe parolacce. Battere gli occhi. Perché battere è una parolaccia. Eh beh, dillo in Viale Monza. Se le cerca. Poi, delle cose che scrive lui, si inventa, è anche un autore, capito? E cosa ha scritto? La molletta da bucato. Ah. La molletta da bucato è un autore, capito? La molletta da bucato è un autore, capito? La molletta da bucato è un autore, capito? Qui fanno concerti, è stata la scala per tanti anni, sapete come nasce questo Arcimboldi? Quando hanno ristrutturato la scala di Milano, qui c'era il maestro Riccardo Muti, tu ti stai cambiando nel camerino di Riccardo Muti. Quando fa così è l'incipit e si fa così, sospensione, poi fa l'azione, si ascolta, poi quando c'è lo switch, la molletta che... Allora forse neanche, si applaude quando lui finisce, d'accordo? Lui si sveglia e rimane molletta. Sì. Vi ho sgridato troppo, scusate, non volevo. Fate il cazzo che volete, ovviamente. Il foglio regolato è la vecchia macchina da scrivere che batte. Questo è Simone Barbato! Questo è Simone Barbato! Non dico niente, ma non sono io, poi dicono che l'ho creato io un mostro così. No, era già mostro prima, lui è un mostro, cioè un mostro di bravura, intendo, un mostro. Claudio mi fa morire. Ma io non voglio fare i nomi, ma c'è qualcuno, gli autori che dice Simone ha dato il... Basta, non lo vogliamo più vedere. Cosa? Cosa? Non lo vogliamo più vedere? No, che non lo vogliamo più vedere. No, ma anche la scelta, a parte la grafia, gli auco, le strofe, le poesie, non inversi, perché ne fa già lui abbastanza. Ma anche la scelta del tema. Chi ha scelto? Il pop corn. Chi ha scelto? Chi ha scelto? Ma la serietà di Bisio! Per deontologia professionale, avete visto, non applaudo nessun comico, ma lui sì, perché non è un comico, è un attore, no, è un imo, no, chi cazzo, non lo sappiamo, è una cosa, è un essere, è un ente, è una forma, anche brutta cazzo, eppure gli voglio bene, perché? Senti profumo di popolo? Ma sì! Sono malato, forse, ma lui anche! Eh, guardalo! Perché? Adesso, se nella terza puntata non ci sarà più Simone Barbato, colpa vostra, no, colpa vostra, non ci sarò neanch'io. Parole forti! Parole importanti, Vincenzo, parole importanti! C'è qualcuno che non vede l'ora! La gondola! Eh, te la sei cercata però, scusami! Sembra una gondola! E tu è un gondoliere, non so come si dice, ma... Simone Barbato! Grazie Simone! L'Arcimboldi, Milano, l'Italia, è con te! E tu, tu, cioè, non lo riconosco! Quando esce Simone, Claudio diventa un... Vorrei averlo sul comodino, ragazzi, tutti i giorni, mi sveglio, mi metto allegria, un po' mi spavento! No, no, no! Ah beh!